quello che vedete è l'effetto freeze frame sequence sembra che ci voglia una lavorazione particolarmente complicata per realizzarlo ma in realtà è più facile di quello che sembra in primo luogo non dovete ritagliare una per una le immagini che vedete congelate all'interno del video ci sono però tre regole fondamentali per riuscire a realizzare efficacemente questo effetto e sono tutte regole accorgimenti da seguire in fase di ripresa innanzitutto l'inquadratura come vedete anche in questo caso molto bello con gli aquiloni deve essere assolutamente fissa non basta una camera a mano è necessario usare un cavalletto in secondo luogo ci deve essere questo è abbastanza evidente un oggetto o un soggetto che si muove significativamente all'interno dell'inquadratura proprio il caso ad esempio di questo aquilone la terza regola è importante è che il soggetto e l'oggetto oppure l'oggetto devono stagliarsi dallo sfondo questo non vuol dire che lo sfondo deve essere completamente omogeneo ma semplicemente più chiaro o più scuro uniformemente più chiaro uniformemente più scuro del soggetto o dell'oggetto che andremo sul quale andremo ad applicare l'effetto io ho preparato qui un video scaricato da internet dal sito shutterstock infatti c'è il watermark perché non l'ho pagato tanto è soltanto una prova e quindi ci lasciamo questo watermark che per il momento non ci dà fastidio vediamo qual è il soggetto tre persone che passano con un aquilone proprio come era un aquilone l'esempio che vi ho fatto vedere dobbiamo agire in questo modo dobbiamo scegliere in alzitutto i punti in cui vogliamo che l'aquilone si fermi si congeli possiamo scegliere un primo punto qui ad esempio puntiamo sulla timeline la playhead e in quel punto gli diamo alt cioè tasto alt f a questo punto nel punto preciso in cui abbiamo puntato la playhead ci inserisce un freeze frame del frame selezionato con la playhead noi lo andiamo a tirare su a connettere al di sopra a questo punto dobbiamo fare in modo che del fotogramma fisso che siamo andati a creare emerga soltanto quello che ci interessi e che quindi al di sotto continui il video in movimento come possiamo vedere qui possiamo vedere al momento solo il fotogramma fisso lo selezioniamo e andiamo a dirgli sull'inspector nella voce compositing blend mode gli diciamo darken vediamo che già l'immagine è cambiata che cosa è successo le funzioni del blend mode innanzitutto si applicano soltanto quando c'è un'immagine sotto cioè ci sono due clip una è sovrapposta all'altra e si applica a quella superiore che cosa succede qual è il risultato il risultato dell'effetto blend mode è un mix tra le due immagini quella superiore e quella sotto rispetto alcuni parametri in questo caso abbiamo il parametro darken cioè emergono le parti i pixel più scuri tra l'immagine sotto e l'immagine sopra quindi l'aquilone è più scuro del cielo le persone anche sono più scure del cielo e quindi trapelano dall'immagine sotto bucano l'immagine sopra e trapelano dall'immagine sotto in questo modo possiamo andare avanti ad aggiungere freeze frame il secondo lo possiamo mettere qui selezioniamo la clip di sotto la playhead è puntata nel punto in cui vogliamo creare il freeze frame e gli diamo alt F ora andiamo a prenderlo di nuovo lo tiriamo sopra a tutte le clip e lo connettiamo senza spostarlo a destra a sinistra lo collettiamo esattamente in quel punto e anche in questo caso andiamo a dargli darken allora io ho inserito come possiamo vedere nello stesso modo 6 freeze frame in punti precisi in cui io volevo che l'aquilone si fermasse andiamo a vedere qual è il risultato l'aquilone fa quello che deve fare però abbiamo anche giustamente le persone che passano sotto che si sdoppiano e si moltiplicano in alcuni casi in maniera imprecisa ad esempio qui il bambino sovrapposto alla persona è emerge soltanto in maniera parziale tipo il volto vediamo che è cancellato non li volevo però non era mia intenzione moltiplicarli quindi ora che cosa vado a fare vado ad usare il mascherino un mascherino vado su effects keying mask trascino il mascherino sul primo freeze frame andiamo a vedere nelle opzioni che ho su effects e le possibilità sono due posso fare un mascherino che mi con il quale ritagliare soltanto quello che voglio tenere cioè l'aquilone e quindi escludere tutto il resto cioè tutte quelle persone che mi vanno a riempire l'inquadratura anche loro come immagini congelate oppure in questo caso mi conviene fare un'altra cosa siccome il cielo è abbastanza sgombro e uniforme io posso fare un mascherino invertito un invert mask così e vado a togliere quello che invece non mi interessa cioè quello che sta al di sotto di una certa altezza in questo caso mi conviene fare un mascherino invertito perché invece che ritagliarlo preciso per ogni freeze frame posso utilizzare questo che ho usato e copiarlo in tutti gli altri freeze frame allora faccio mela c su questa clip a cui ho applicato l'effetto mask poi seleziono tutti gli altri freeze frame vado in edit past attributes mask copio l'effetto mask in tutti gli altri con gli stessi parametri di mask che ho impostato e quindi che cosa succede? succede che le persone passano una volta ma non ho più la loro immagine congelata che mi occupa lo schermo possiamo vedere che in alcuni punti ci sono delle imperfezioni delle mani che escono dal mascherino che ho costruito andrò ovviamente a correggere questi difetti ora che cosa succede in questo video? in questo video possiamo vedere che a un certo punto si compone questa rete di freeze frame e a un certo punto i freeze frames si rianimano tutti insieme e ripartono e riparte e ripartono ognuno come video questo è un effetto anche questo non troppo difficile da realizzare andiamo a vedere come andiamo a scegliere un punto in cui noi il punto della timeline in cui vogliamo che gli aquiloni ripartano potrebbe essere questo ad esempio portiamo la playhead e accorciamo tutti i freeze frame a livello più o meno di quel punto e a questo punto dobbiamo farli ripartire uno alla volta allora andiamo a prendere per fare ripartire questo questo primo freeze frame dobbiamo mettergli di conseguenza quello che succede dopo cioè tutte queste clip in movimento non congelate che stanno qua sotto quindi le selezioniamo e le portiamo subito dopo con il secondo freeze frame le clip che sono dopo sono quelle di prima tranne una ovviamente quindi queste qua le copiamo e le portiamo subito dopo andiamo avanti così voi vedete che io seleziono le clip video che seguono quel freeze frame alla fine alla fine ottengo una situazione del genere vediamo è venuta fuori in timeline una specie di piramide a questo punto perché l'effetto funzioni bisogna che io applichi a tutte le clip video che ho inserito copiandole gli stessi effetti che avevano i freeze frame precedentemente quindi vado su uno di essi lo copio poi seleziono tutte le clip video successive e gli dico edit past attributes tra gli attributi ovviamente scelgo l'effetto mask e il compositing che quindi mi attribuisce il darken a tutte queste clip past vediamo cosa viene fuori esattamente quello che volevamo rivediamocelo da capo l'uomo a a a a Grazie a tutti.